0, grande stacco di Berlitti, a dire la verità mi è sembrato anche poco disturbato, marcatura un po' molle su di lui, guardate qui a tutto il tempo di saltare, indisturbato al centro dell'area di rigore, parabola perfetta che si taglia le spalle di Bressan e dopo 8 minuti e mezzo il trapani è già in vantaggio con Cristian Berlitti.